cari amici giovani e meno giovani un saluto da roberto artigiani che ancora una volta dopo tanti anni è qui a presentarvi un videogioco ma questa volta ultimissima generazione il v box seconda serie signori questo è un videogioco che vi consente di avere migliaia di giochi a disposizione e di inserire migliaia di giochi uno più bello dell'altro quelli che a voi piacciono di più perché perché li potete addirittura catturare tramite internet e inserire nella nostra console andiamo a vedere come è fatto e che cosa vi forniremo è veramente eccezionale poi per il prezzo che vedrete veramente veramente incredibile allora abbiamo la console base che vedete questa tutta funziona tutta senza fili naturalmente i due giochi stick che voi vedrete sono senza fili quindi potete giocare camminando per la stanza oppure stando uno da parte uno dall'altra non avete la noia del cavo che si collega alla base va bene vedete è tutto senza fili poi abbiamo invece questo connettore che vi consente di alimentare appunto il gruppo base il gruppo principale e poi avete se vedete c'è una porta usb e poi avete naturalmente il cavo di dotazione per collegarlo audio e video al vostro televisore in più c'è un'espansione di memoria con una sd card che noi vi daremo che vi servirà non solo per inserire altri giochi ma per la lettura di file potete vederci tramite questo nostro oggetto anche video musicali film audio e quello che volete voi allora all'interno troverete già memorizzati più di 100 giochi e ognuno dei quali poi ha anche espansioni nelle difficoltà quindi sono 100 e più giochi già dentro più vi daremo una card avete vista quella che abbiamo mostrato poco fa anch'essa con altri 100 giochi quindi già solo 200 che voi avrete contemporaneamente al momento del dell'arrivo del nostro v box a casa vostra ma la cosa più bella e più importante quindi non solo vi divertirete a spaziare tra mille possibilità tra vari giochi tutti i tipi dai combattimenti alle battaglie aeree alle battaglie navali ai giochi di di corsa oppure non so le auto il calcio tutti gli giochi sportivi ma chi più ne ha più ne metta guardate ripeto sono centinaia potete giocare con le varie squadre addirittura cambiare squadra addirittura cambiare giocatori insomma è la fine del mondo è l'oggetto più bello che possiate immaginare come videogioco ma ad un prezzo ridicolo rispetto a quello che fa però non è solo un videogioco perché come avete visto ha una console che vi consente di vedere di riguardare di registrare di fare un sacco di cose pensate che voi potete con il nostro oggetto scaricare da internet migliaia e migliaia di giochi ci sono dei siti apposta dove appunto si possono scaricare questi giochi e rivederli quindi non vi stancherete mai quindi non direte non direte mai ma questo vi è avuto a noi ora come faccio non c'è più da comprare famose scatoline card o anche i dischetti che ognuno magari costa 100 euro 120 euro per un solo gioco qui ne avete migliaia a disposizione ripeto potete inserirne quanti ne volete voi basterà caricare la card di giochi e poi ve la vedete signori qui ce ne sono già memorizzati 200 100 nella console 100 nella card però se ne volete altri se volete divertirvi a metterci tutto quelli gli ultimi arrivati dice c'è un nuovo gioco lo vado a vedere su inter lo scarico e poi me lo guardo e ci gioco ci gioco non è che lo guardate basta ci potete giocare quindi è bellissimo guardate per piacere anche la grafica la bellezza di certe immagini nella possibilità di spaziare su un sacco di cose guardate veramente vi divertite a cambiare gioco dai più giovani ai più vecchi ci sono dei giochi magari che sono classici sono dal super mario a tutto il resto che magari hanno già una decina di anni ma che sono sempre giochi belli da vedere da giocare che sono giochi che sono indimenticabili oserei dire poi ci sono tutti quelli più moderni quelli arrivati proprio ora freschi freschi addirittura come vi ho detto poco fa potete addirittura registrarli tramite internet e catturare i più moderni proprio gli ultimi arrivi e vederveli nella vostra console vedervi nel vostro videogioco il v box seconda generazione noi abbiamo già delle belle battaglie aeree vedete abbiamo simulazioni direi addirittura di realtà perché come vedete abbiamo sono state riprodotte le scene vere reali eh voi vedete proprio il sottosuolo eh con con tutto ciò che c'è realmente vedete le porte aeree dalle quale si parte gli arrivi ma ma guardate io vi dico che ci vorrebbero delle ore per spiegare ve lo immaginate vi ho detto che già dentro ci sono 200 giochi pensate quindi quanto dovrei parlare per spiegarveli tutti io vi dico solo che non riuscirete a vederli tutti non riuscirete a giocare con tutti quelli che già sono inseriti nel pacchetto iniziale se poi vi divertite a casa vostra con calma e credo tutti lo sappiano fare di registrare altri giochi da internet ne avrete a migliaia ripeto ne potete inserire quanti ne volete a mano a mano che li trovate registrate la vostra card li andate a vedere poi a mano a mano che vi annoiate li cancellate ne registrate altri e così via quindi è eterno questo è un gioco e questa è la bellezza che con una cifra ridicola avete un videogame eterno e non quelli che tutti i momenti bisognerebbe comprare qualcosa di nuovo perché altrimenti sono obsoleti altrimenti sono passati in moda altrimenti quel gioco vi ha annoiato altrimenti quella cosa lì ormai la sapete fare a memoria e poi la bellezza di poter giocare in due ripeto senza fili senza con la libertà di movimento la possibilità di migliorare in qualità la possibilità di aumentare le difficoltà e quindi a mano a mano che diventate bravi migliorate sempre di più la bellezza di poter giocare in due e quindi fare una battaglia tra nipotino e nonno cosa che farò sicuramente io oppure tra padre figlio oppure due ragazzini dice vieni oggi ti sfido a cosa giochiamo a te la scelta ce ne sono migliaia a te la scelta cosa piace di più questo giochiamo a questo mi è venuto a noi guardate che io lo dico per i papà per i nonni che fossero all'ascolto il problema di comprare queste cose per il vostro nipotino per vostro figlio è proprio quella che dopo un po se gli date un oggetto che magari ha due o tre giochi soltanto sono quelli che nuovamente costano anche 300 euro lui si annoierà vi dirà sì ma ormai sono stato bravo mi sono annoiato non mi diverte più questo gioco e che dovete fare dovete comprare qualcos'altro dovete andare a spendere altri soldi per farlo divertire invece con questo è una spesa unica eterna perché voi continuamente lo potete aggiornare registrando appunto catturando da internet nuovi giochi tutti i giorni nuovi giochi lo potete fare giornalmente settimanalmente mentre quando volete andate sui siti che sono apposta per questo e scaricate giochi e ve li vedete perché questa nostra console è in grado di leggere appunto tutta una serie di possibilità di lettura a proposito sulla scatola e sulla confezione trovate che questo supporta tutta una serie di non so mp4 avi asfum guardate formati incredibili tutte le possibilità di formati mille giochi differenti uno diverso dall'altro ripeto non riuscirete a vederli tutti nemmeno se campate 200 anni quindi è molto bello perché è eterno e poi è una cosa che il vostro figlio diventa grande beh la passerà a un altro amico più piccolo a un ragazzino più piccolo oppure ci giocherete voi io sono sicuro che ci giocherete voi tutta la famiglia ci giocherà marito e moglie nonne e nonna nonno e nipotino o nipotina ma sicuramente perché è un divertimento bello importante con una bella grafica con una bella immagine con delle belle sonorizzazioni ma guardate che effetti è eccezionale tutto questo quanto dovrebbe costare pensate soltanto a comprare 10 giochi diversi qui invece ne avete già inseriti 200 e poi ne potete memorizzare mille mille con diverse possibilità anche di difficoltà signori credo che non ci siano dubbi bisogna telefonare subito lasciare nome e cognome sarete richiamati verrà consegnata a casa vostra la cifra vedete è una cifra bassissima più un contributo per la consegna e vi accorgerete che veramente avete fatto un acquisto intelligente un acquisto giusto per un regalo di natale per un regalo per un compleanno per un regalo a vostro nipotino ma avete vostro figlio avete comprato qualcosa di eterno qualcosa che non diventerà mai vecchio questa è la cosa più bella non diventerà mai vecchio naturalmente garanzia totale soddisfatti rimborsati come sempre per darvi il massimo e la massima possibilità guardate è veramente eccezionale questo è un computer vero e proprio e non è una console gioco normante è un computer vero e proprio con due joystick senza fili ecco la card che già noi vi daremo è la west card è già compresa nel prezzo telefonate subito chiamate lasciate nome e cognome ne daremo solo un certo quantitativo non di più quindi primi che verranno saranno i più fortunati un saluto a tutti e buon divertimento mi raccomando dai ora vado a giocare con mio nipotino e vince sempre lui come mai non lo so ciao ciao